Buongiorno a tutti, partecipo più volte ad eventi come questo perché il nostro obiettivo è cercare di spiegare il più possibile quali sono gli strumenti che abbiamo trovato al Ministero dello Sviluppo Economico e in generale negli strumenti del Governo per aiutare le imprese e che spesso non sono conosciuti a tal punto che io inizio, esordisco sempre con questo racconto, il Ministero dello Sviluppo Economico negli ultimi dieci anni ha stanziato 80 miliardi di euro complessivamente di incentivi, non ne sono stati utilizzati neanche 60. Questo perché molto spesso una buona parte di questi incentivi o non è conosciuto dalle imprese o non è più utile perché è anacronistico, perché è modellato su un sistema superato. Il lavoro che stiamo cercando di fare è riorganizzare tutto questo comparto, non lo facciamo solo con un portale che dopo vi spiegheranno che è incentivi.gov.it ma cercando di dare una nuova mission al sistema degli incentivi. Voglio premettere una cosa, noi andiamo incontro ad un momento storico nel quale l'ambiente è sempre più al centro del dibattito, però vorrei rassicurare su una questione, io non credo nelle leggi che impongono alle imprese di fare una cosa entro un determinato periodo sulle emissioni, sull'impatto ambientale, perché quando fai così l'unica cosa che produci è la chiusura dell'impresa. È successo spesso in passato, si diceva entro un anno devi ridurre del 40% le emissioni e l'imprenditore ti diceva sai che c'è, io le riduco del 100%, chiudiamo proprio, perché in questo momento non siamo in grado di fare gli investimenti che servono su macchinari e sviluppo per ottenere il risultato che tu ci poni. Dico questo perché invece il grande lavoro di riorganizzazione degli incentivi alle imprese dovrà essere improntato alla conversione ecologica del nostro sistema produttivo. Conversione ecologica che avrà bisogno di dieci anni? Bene, ci metteremo dieci anni, ma permetteremo alle imprese con degli incentivi mirati e con dei processi di sburocratizzazione mirati di potersi convertire salvando il lavoro e salvando il valore dell'azienda, altrimenti faremo soltanto demagogia. Questo lo dico in premessa perché vedo che adesso tutti sono diventati amici di Greta e quindi tutti vogliono strafare su questo fronte, ma so che il nostro settore industriale e imprenditoriale è un habitat molto delicato nel quale non puoi sganciare una bomba atomica come quella di dire tra un mese vi dovete adeguare e tra due mesi vi dovete adeguare. Noi non vogliamo provocare shock su questo fronte. Detto questo, questi incontri hanno una parte tecnica, la squadra che vedete qui sono i tecnici e le persone che portano avanti tutte quelle che possono essere le opportunità per le imprese, che affrontano ogni giorno le sfide imprenditoriali che voi come imprenditori affrontate, lato Ministero. In generale il mio dovere in questi incontri è quello anche di spiegare qual è il medio lungo termine della nostra azione di governo sul tema delle imprese. Ci sono due parole fondamentali, una è innovazione e una è formazione. Su questi due fronti stiamo investendo tutte le risorse che possiamo per cercare di ottenere un risultato. Uno, lasciare i brevetti qui in Italia e non fare in modo che altri paesi europei come Germania, Francia o Inghilterra prendano i nostri brevetti creati dai nostri giovani e meno giovani imprenditori che a volte sono brevetti che nascono nelle aziende per esigenze di processi produttivi e quindi rafforzino i loro asset strategici. Perché se c'è una cosa che è certa è che nei prossimi anni la competitività tra i paesi europei e i paesi dell'Occidente e dell'Oriente si giocherà sull'innovazione. Io ho conosciuto qualche mese fa il ministro francese dell'economia, la Francia che è un paese che ha una grande presenza nell'economia, ha partecipate di Stato, è nella Peugeot, nella Citroën, mi ha detto noi siamo pronti a vendere quote significative delle partecipate di Stato per monetizzare e investire nel Fondo Nazionale sull'Innovazione che loro in Francia hanno creato quattro anni fa. Con questi fondi nazionali sull'innovazione hanno attratto tante giovani menti italiane che avevano creato progetti innovativi enormi e hanno permesso il finanziamento sul loro mercato con quei fondi e il deposito del brevetto nel loro paese. Questo mi fa capire che se anche la Francia che è un paese particolarmente interventista dell'economia è pronta a dismettere pezzi di partecipate per entrare nella partita dell'innovazione noi dobbiamo accelerare. Giugno sarà il mese, quello che vi dico è già legge ed è già stato deliberato dal CDA di Cassa Depositi e Prestiti in cui nascerà il Fondo Nazionale per l'Innovazione. È un fondo da 2 miliardi di euro che permetterà il finanziamento di progetti innovativi di aziende esistenti o aziende che nascono, quindi start up innovative. Il Fondo Nazionale sull'Innovazione si basa su un principio, fare in modo che le idee innovative che non sono necessariamente tecnologiche che nascono ad esempio in Veneto rimangano in Veneto e non finiscano in Francia, in Germania, in Inghilterra che sono state la calamita delle innovazioni negli ultimi 4 anni. Noi dobbiamo recuperare un gap di 4 anni, non di 30 anni su questo fronte. La Francia ha iniziato 4 anni fa e sta creando il distretto dell'intelligenza artificiale a Parigi e in questi 4 anni noi dobbiamo colmare un gap che possiamo colmare perché siamo il paese più creativo d'Europa. Lo dimostrano le nostre imprese sul Made in Italy, lo dimostrano le nostre innovazioni nel Made in Italy. L'innovazione non è necessariamente tecnologia, l'innovazione è anche riorganizzare un processo industriale di un'azienda, cambiare i materiali e non Facebook o Google necessariamente. Sono tante innovazioni che i nostri giovani e meno giovani stanno portando avanti. Dico questo perché se l'innovazione è al centro la formazione sarà l'aria che respiriamo, perché nei prossimi 5 anni noi avremo il 60% dei lavori come li conosciamo che si trasformeranno o spariranno. La formazione in alcune regioni funziona meglio, in altre si formano le persone per fare i corsi e non si fanno i corsi per formare le persone e questi meccanismi hanno creato tante distorsioni in questi anni, sprechi di risorse. Perché? Perché non c'è una regia nazionale, non c'è una regia a livello centrale, ogni regione va nella sua direzione. A me va bene quando il sistema funziona, ma quando ci sono regioni che non funzionano il mio dovere come ministro che gestisce l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro è intervenire e riorientare sia la formazione sia i sistemi di formazione. Non so se quanti lo sappiano, ma il Job Center che sarebbe il centro per l'impiego di Berlino Centro ha 10.000 dipendenti, l'Italia in tutto ha un sistema di 8.000 dipendenti. Ora io non dico che dobbiamo far crescere il numero di dipendenti a quei livelli, però è chiaro che quel paese e quel sistema industriale sta investendo in una cosa, l'incrocio fra la domanda e l'offerta che significa persone competenti altamente formate che ogni giorno hanno relazioni con le imprese per capire di quali figure professionali necessitano e quali figure professionali vadano formate e dall'altra parte incrocia con tutte quelle persone che magari non hanno la formazione per entrare in quel settore che richiede l'azienda e avviano il sistema di formazione, il processo di formazione. Per me in Italia non dobbiamo fare molto affidamento sui sistemi di formazione pubblico ma dobbiamo investire risorse per permettere ai cittadini di farsi formare in azienda e pagare gli imprenditori per quel percorso di formazione così che ci possa essere già un contatto diretto tra l'imprenditore e l'aspirante lavoratore nella fase di formazione. Questo lavoro richiederà un po' di tempo ma abbiamo fatto dei buoni accordi in conferenza Stato-Regione perché io non credo nelle riforme costituzionali su questo fronte, se ci buttiamo nelle riforme costituzionali per la centralizzazione delle politiche attive del lavoro secondo me facciamo un errore. Credo invece nel rapporto Stato con le Regioni, abbiamo chiuso dei buoni accordi Stato-Regioni nell'ultima conferenza e nel prossimo anno ci sarà un miliardo di euro a disposizione per avviare percorsi di formazione che prevedano le persone nelle imprese dove servono quelle particolari competenze. Voi siete l'esempio di quante figure professionali si stiano cercando sul mercato e non si trovano e questo lavoro richiede una cosa per noi come Ministero e come Governo centrale, la possibilità di incrociare le banche dati di provincia in provincia per capire qual è la forza lavoro disponibile e quali sono le persone, le figure che le imprese cercano. Oggi siamo in alcuni posti d'Italia dove una provincia non comunica con quello accanto, i database sono chiusi perché i dati sono potere e nessuno vuole condividere quel potere. Abbiamo raggiunto l'accordo in conferenza Stato-Regioni, le Regioni ci hanno dato l'assenso ad utilizzare i dati di tutte le banche dati che hanno e adesso stiamo creando il software unico che ci consentirà a livello nazionale di capire che cosa chiedono le imprese e cosa soprattutto abbiamo a disposizione come forza lavoro del Paese. A quel punto potremmo riorientare tanti sistemi di formazione pubblica che oggi non stanno parlando al mondo delle imprese e stanno formando per professioni che non servono e allo stesso tempo non stanno formando per quelle che servono. Questo consentirà anche di eliminare qualche alibi perché ci sono a volte tante persone che cercano lavoro ma non riescono ad avere un punto di riferimento e il punto di riferimento non può che essere una visione a 360 gradi di quali sono le figure lavorative che servono. Certo voi mi direte abbiamo gli istituti tecnici che vanno potenziati anche le università devono essere un po' più concrete su alcuni fronti per parlare alle imprese e fornire le professionalità che servono. Questo vale per chi ha la fortuna tra virgolette di essere ancora in età per stare negli istituti tecnici ma noi nei prossimi 5-6 anni avremo il problema dei quarantenni, dei cinquantenni, dei sessantenni da riqualificare e reinserire nuove figure professionali perché sta cambiando tutto nelle aziende e voi me lo insegnate, state facendo investimenti importanti nelle nuove tecnologie, nei processi industriali, nei materiali, devono cambiare i tipi di formazione e allora quando noi affrontiamo il tema degli istituti tecnici a dicembre abbiamo investito 50 milioni di euro per cominciare a cambiare i laboratori degli istituti tecnici perché i figli si stanno formando su macchinari su cui si erano formati i padri quando avevano fatto gli istituti tecnici e quindi probabilmente non si stanno formando per quello che c'è in azienda, anzi quasi sicuramente. Ma sull'altro fronte dovremo affrontare anche il problema di tante altre persone che andranno riqualificate e il sistema di formazione non può essere a carico sempre vostro perché pagate le tasse per alimentare un sistema di formazione e reclutamento pubblico che deve funzionare. Detto questo ho fatto questa premessa solo per dirvi che su questi due asset che sono l'innovazione e la formazione investiremo tantissime energie e tempo per cercare di renderli più efficienti e più competitivi possibili. Sul Made in Italy abbiamo iniziato una sperimentazione importante al Ministero dello Sviluppo Economico con 40 milioni di euro che ci consentirà attraverso la tecnologia blockchain di cominciare a contrastare il falso Made in Italy. Sapete meglio di me che noi abbiamo 100 miliardi di euro di falso Made in Italy nel mondo e 40 miliardi di euro di vero Made in Italy nel mondo. Quei 100 miliardi sono persone nel mondo che vogliono comprare italiano e a cui si sta propinando un prodotto non italiano. Falsificato, Italian sounding, parliamo nell'agroalimentare del parmesan e così via. Allora fino a poco tempo fa combattere e contrastare un falso Made in Italy creato fuori dai confini italiani era veramente complicato perché non avevamo giurisdizione per andare a fare i controlli e se non c'era un accordo internazionale per contrastare il falso era impossibile contrastarlo. Oggi abbiamo una tecnologia si chiama blockchain, abbiamo iniziato a sperimentarla sulla filiera dell'agroalimentare, del tessile e alcune dell'artigianato. Che cosa vogliamo fare? Fare una cosa molto semplice, quando un cittadino nel mondo compra un prodotto Made in Italy deve poter verificare sullo scaffale o nello showroom dove si trova col proprio smartphone la tracciabilità del prodotto, cioè capire se è stato fatto veramente in Italia oppure no. Fino a qualche tempo fa era impensabile, con questa tecnologia è tutto molto più semplice. I prossimi anni si baseranno nell'innovazione tra blockchain e intelligenza artificiale. Queste due tecnologie se non trasmettiamo e non ne trasmettiamo l'utilità è molto complicato pensare che possano essere utilizzate per fare qualcosa di buono. Il Made in Italy è un fronte su cui dobbiamo lavorare sempre di più, proprio per ridurre quei 100 miliardi di Made in Italy falso e fare in modo che quindi quello che si libera possa essere intercettato da chi fa il vero Made in Italy e si possa vendere. I mercati dell'est del mondo sono mercati in cui stanno crescendo decine di milioni di nuovi ricchi ogni anno e di appartenenti al ceto medio, parlo della Cina, dell'India ma anche di alcuni mercati del Medio Oriente. Lì questi nuovi ricchi o nuovi appartenenti al ceto medio vogliono comprare cose ben fatte e mangiare cose buone, cioè Made in Italy perché su questo non si discute. Il tema vero è fare in modo da andare in quei mercati per le imprese assistiti dal governo. Quelli sono mercati in cui i rapporti governo-governo sono fondamentali per il business delle imprese, se no non entri in quei mercati. Io ho fatto diverse missioni di sistema in questo anno da Ministro dello Sviluppo Economico, stanno aumentando le esportazioni verso quei mercati da parte dell'Italia e l'obiettivo è portare il Made in Italy lì e non portare il Made in China qui. Questo è un meccanismo che dobbiamo tenere sempre presente e io tutto quello che ho fatto fino ad ora negli accordi che abbiamo sottoscritto si basa su questo principio. Detto questo, l'inizio di questo governo non ha visto un grande dialogo con le imprese, è responsabilità nostra, me ne prendo tutta la responsabilità. Negli ultimi cinque mesi invece lavorando con molte associazioni di categoria abbiamo messo in piedi due provvedimenti che si chiamano decreto crescita e decreto sblocca cantieri, sono un punto di partenza, dobbiamo fare ancora tanto, ma alcune cose insieme le abbiamo fatte, anzi a me piace dire che quando si fanno cose buone è merito vostro, quando manca qualcosa è colpa nostra. Con questo metodo noi siamo spronati a fare sempre di più. Il tema del decreto sblocca cantieri e del decreto crescita muoveva da due esigenze, abbassare le tasse per le imprese e combattere la burocrazia per sbloccare le infrastrutture. Il decreto sblocca cantieri ha finalmente superato le linee guida del codice degli appalti con cui molti di voi avranno avuto a che fare, quelle linee guida per cui rispettavi il manuale di istruzioni del codice degli appalti, poi nasceva un contenzioso, andavi di fronte a un tribunale e il tribunale smentiva il manuale di istruzioni del codice degli appalti che erano le linee guida. Io non discuto che quel codice degli appalti sia stato fatto con le migliori intenzioni, però i risultati sono esattamente il contrario, abbiamo seri problemi per cui nessuno vuole più firmare atti. Noi adesso avvieremo uno smantellamento graduale delle norme inutili nel codice degli appalti, ma intanto abbiamo tolto una serie di linee guida che non rispecchiavano il codice degli appalti e stavano disorientando ancora di più le imprese. E poi d'ora in poi il Governo avrà il potere ordinario di poter commissariare tutte le opere che sono fuori cronoprogramma, cioè tutte quelle opere che andando fuori cronoprogramma per la burocrazia si bloccano. E questo ci consentirà con un commissario ad hoc, con poteri sostitutivi, di poter intervenire lì dove ci sono processi iper burocratizzati che bloccano il cantiere, che bloccano l'opera o non la fanno partire. Questa cosa nel decreto sblocca cantieri è presente come il superamento delle linee guida, come il fondo di garanzia per le edilizie. Sappiamo bene che le imprese delle edilizie sono quelle più in difficoltà sui crediti scoperti, hanno seri problemi ad avere modo di onorare i prestiti che hanno chiesto in questi anni, infatti stanno morendo sia le piccole, sia le medie che le grandi, perché nell'edilizia è uno di quei settori in cui si anticipa di più quando si inizia una commessa e si prende una commessa. Allora abbiamo creato una sezione speciale, c'è un emendamento dello sblocca cantieri che sarà approvato la settimana prossima, una sezione speciale del fondo di garanzia del Ministero dello Sviluppo Economico che riguarda le imprese dell'edilizia, aiuta gli imprenditori a dilazionare i termini di pagamento, a portarli più avanti grazie alla garanzia che dà lo Stato, cercheremo di dargli respiro in questo momento storico. Il tema dello sblocca cantieri ha una grande accusa, voi volete far proliferare la corruzione perché state semplificando troppo, io dico e l'ho sempre detto per contrastare la corruzione c'è la nuova legge anticorruzione che dà più poteri alle forze dell'ordine per fare i controlli, ma stante questo che dà più poteri alle forze dell'ordine per fare i controlli possiamo semplificare il sistema perché quel modo di chiudere e stringere le maglie non ha mai contrastato i corrotti, ha dato solo problemi a chi le regole le voleva rispettare tutte una per una e a volte non sapeva neanche più quante fossero. Il decreto crescita invece muove dall'altra esigenza, ci sono alcune tasse odiose per le imprese, alcune le abbiamo affrontate anche nella legge di bilancio che abbiamo cominciato ad abbassare. La prima è l'Imu sui capannoni, l'Imu sui beni strumentali in generale che vengono considerati beni di godimento anziché beni necessari a portare avanti l'impresa. Oggi noi abbiamo nel decreto crescita portato al 60% la deducibilità dell'Imu sui capannoni e miriamo l'anno prossimo ad eliminarla del tutto. Arrivare al 60% significa cominciare a dare un segnale chiaro che le imprese devono poter portare avanti le proprie aziende senza pagare tasse addirittura sulla struttura in cui l'albergo esercita la propria attività o su un capannone in cui l'azienda esercita la propria attività. Quella è una tassa odiosa, sempre odiata dalle imprese, quest'anno la riduciamo del 60%, l'anno prossimo vogliamo eliminarla del tutto. Lo stesso è stato fatto sui decreti Inail, anche lì accuse dicendo che vogliamo favorire gli incidenti sul lavoro. Voi pagavate un premio assicurativo all'Inail per il numero di incidenti sul lavoro degli anni 90, 99-2000. Ora io non dico che siamo messi bene in Italia, ci sono ancora tanti infortuni sul lavoro, ma ce ne sono meno degli anni 99-2000. E quindi era come si fa per l'automobile quando si paga la polizia assicurativa, se fai incidenti aumenta, se non ne fai dovresti essere premiato, il dovresti è l'obbligo. Il tema delle quote Inail, delle polizie assicurative Inail che pagavano le imprese erano bloccate al 2000. Le abbiamo cambiate, le abbiamo adeguate, in alcuni settori di manifattura si arriverà al 50% in meno, questo si percepirà a dicembre ovviamente, ma in media abbiamo ridotto del 35% le polizie assicurative Inail. E l'altro fronte che mi piace citare anche perché siamo disposti a tornare indietro quando sbagliamo qualcosa, noi avevamo sostituito il superammortamento con la mini-IRES, ma quella mini-IRES non funzionava, era uno strumento che avevamo introdotto ma ci siamo resi conto, grazie ai vostri feedback che non funzionava, abbiamo deciso di tornare indietro sul vostro input e abbiamo reintrodotto il superammortamento. In impresa 4.0 quest'anno c'è anche il cloud, che significa che le imprese potranno utilizzare quegli sgravi e quegli incentivi anche per essere aiutati sul fronte dell'immagazzinamento dei big data, che sarà molto importante nei prossimi anni per le aziende, visto che i macchinari creano e elaborano sempre più dati. Questi fronti qui nel decreto crescita sono solo alcuni punti che abbiamo affrontato. Ovviamente uno dei problemi più grandi, oltre alla tassazione, è sicuramente la burocrazia. Non so quanti abbiano avuto a che fare fino a novembre col Sistri, che era uno degli strumenti burocratici di questo paese, che era nato con le migliori intenzioni di aiutare l'ambiente, alla fine non ha aiutato l'ambiente e non ha aiutato neanche le imprese. Noi l'abbiamo abolito a novembre e come il Sistri dovremo abolire un sacco di bizantinismi che ci sono nel nostro sistema burocratico e che stanno bloccando le imprese. Dico anche un'altra cosa, entro la fine dell'anno io vorrei come Ministro del Lavoro portare a casa il codice unico del lavoro. Ne avevo già parlato, noi abbiamo in Italia 240 decreti e 200 leggi sul lavoro, che significa che quando oggi c'è un problema sia lato dipendente che lato impresa non si sa più neanche quale sia la legge di riferimento. Il codice unico del lavoro per ora è stato creato solo dagli editori, cioè ci sono case editrici che hanno raccolto le leggi e hanno cercato di creare un codice semplice e fruibile per orientare professionisti, imprenditori e dipendenti nel mondo delle leggi sul lavoro. Non è mai stato fatto a livello legislativo, cioè codificare le leggi e fare in modo che il concetto espresso dalla norma possa essere di facile comprensione e possa essere quello lì. Noi lo vogliamo creare, ci permetterà di abolire 440 leggi tra leggi e decreti, di poter creare il codice unico e voglio dire lì, nell'ambito di quel codice possiamo lavorare insieme a migliorare anche le normative sul lavoro sia del passato sia del recente presente che magari stanno creando dei problemi a delle imprese. Lo dico perché su questo se ci sono delle norme da sistemare anche sul tema dei contratti possiamo farlo per adeguare il modello dei contratti sempre più alle esigenze delle imprese. Dico tutto questo perché abbiamo un momento importante che non sono solo questi due decreti su cui abbiamo lavorato con le associazioni di imprese ma anche la costruzione della nuova legge di bilancio. Nella nuova legge di bilancio si decideranno temi come il cuneo fiscale sul costo del lavoro e dall'altra parte la tassazione sulle imprese. Non tutto si potrà fare però sono sicuro di una cosa che in un paese in cui la grande evasione raggiunge decine di miliardi di euro e invece si è sempre solo toccato il tema della vessazione dei piccoli imprenditori e dei commercianti per il contrasto all'evasione ed è per questo che ci siamo ritrovati la fatturazione elettronica addosso quando siamo arrivati come governo che ha creato non pochi problemi a tante imprese. In questo paese noi dobbiamo mirare alla grande evasione e sicuramente alla riorganizzazione della spesa pubblica anche eliminando gli enti inutili anche quelli su cui magari nel governo non siamo d'accordo ma una soluzione la troveremo ne sono sicuro perché se noi eliminiamo gli enti inutili eliminiamo anche la burocrazia. Oggi noi quando stanziamo dei soldi da Roma si fermano a volte a metà strada perché devono attraversare una serie di ostacoli intermedi che prosciugano a volte quelle risorse. Infatti per esempio sull'edilizia abbiamo deciso di utilizzare questa norma, l'abbiamo fatto già a dicembre, l'abbiamo rifatto nel decreto crescita, abbiamo stanziato due volte mezzo miliardo di euro per fare opere e le abbiamo affidate ai comuni, abbiamo detto se entro giugno non li spendete li perdete vanno al comune un po' più grande, abbiamo iniziato dai piccoli. L'abbiamo fatto prima per le opere, quindi piazze, strade, marciapiedi e ha funzionato, quel mezzo milione è stato praticamente utilizzato nei primi sei mesi, sarà utilizzato nei primi sei mesi di quest'anno e ha rimesso anche un po' in moto l'edilizia in maniera timida, più 7% ha fatto l'edilizia nei primi mesi di quest'anno perché abbiamo iniettato i soldi direttamente al comune, gli abbiamo detto li puoi spendere in maniera semplificata, senza procedure complicate e li devi spendere entro questo termine. Adesso ai comuni è stata erogata e li devono spendere entro dicembre, un'altra tranche di mezzo miliardo per le opere sostenibili, quindi sostanzialmente l'efficientamento energetico delle scuole, l'efficientamento energetico dei palazzi comunali, degli edifici pubblici. L'obiettivo qual è? Spendere veramente quei soldi e farli finire nel circuito dell'edilizia, che è un circuito che poi traina tutto il resto. Per ora sta funzionando, è una norma che noi abbiamo preso dalla Spagna, infatti è stata definita la norma spagnola che ha funzionato sempre, perché il vero grande problema dei nostri sistemi è che invece se li dobbiamo dare alla stazione appaltante, che poi li deve distribuire agli enti regionali, che poi agli enti locali, i soldi si perdono, molto spesso se ne vanno in consulenze per decidere come stanziarli all'ente dopo. Questo meccanismo cercheremo di utilizzarlo il più possibile, perché noi sui sindaci facciamo molto affidamento, in quanto sono quelli che poi quando gli affidi soldi sanno che devono spenderli, li spendono per opere che servono al Comune e soprattutto rimettono in moto dei comparti che sono un po' bloccati. Un ultimo tema in conclusione, vorrei affrontarlo sul tema dell'Europa. Io credo che come Italia nei prossimi mesi ci dobbiamo riappropriare del commissario europeo all'impresa e all'industria. Negli ultimi cinque anni abbiamo avuto il commissario degli affari esteri, sostanzialmente la politica estera in Europa se ne occupa ogni paese per sé e l'abbiamo visto anche in questi anni e quindi siamo stati scoperti su un fronte che è quello dell'impresa e dell'industria. Noi abbiamo un settore produttivo che ha in media 15 dipendenti per il 99% dei casi, quindi le nostre imprese sono piccole e medie. Queste imprese non sono uguali a quelle europee, lo sapete meglio di me, Francia e Germania hanno dimensioni molto più grandi. Quando si sono fatte le direttive e i regolamenti in questi anni a livello europeo? Si sono fatte su quel modello, quello francese e tedesco e quindi ci siamo ritrovati con un carico di burocrazia per quelle aziende, non per le nostre. Un carico di burocrazia che le nostre avevano più difficoltà da affrontare ma anche per il credito i famosi parametri di Basilea si basavano su una grandezza di impresa che non era quella media nostra. Questo perché, dobbiamo dirci, non abbiamo presidiato abbastanza come paese un fronte che era quello dell'impresa e dell'industria. Ora che sia il commissario alla competitività o sia il commissario all'impresa e all'industria l'importante è che noi difendiamo il nostro unicum, che è il nostro settore produttivo, che ha creato il Made in Italy nel mondo e per questo ci vuole un presidio nella Commissione su quei dossier. E due, lavoriamo all'attacco facendo approvare il regolamento europeo sul Made in che darebbe molte più garanzie al Made in Italy in Europa e allo stesso tempo ci permetterebbe di disciplinare una serie di Made in in altri paesi europei che a volte sono una vera e propria giungla e che arrivano sul mercato contro di noi con dei criteri di fabbricazione dei componenti di un prodotto Made in un altro paese europeo totalmente diverso dal nostro. Io punterò molto come Ministro sulle esportazioni, l'ho fatto e lo continuerò a fare perché la garanzia è che il Made in Italy si fa qui e si può vendere in tutto il mondo e la garanzia è che ha una fama in tutto il mondo straordinaria. L'Expo Dubai 2020 che si sta costruendo lo stanno costruendo sostanzialmente aziende italiane. Ovunque io vada ci sono state aziende negli anni 80-90 italiane che hanno portato in alcuni casi l'elettricità con le proprie tecnologie, con le turbine, hanno portato dei modelli innovativi di costruzioni. Noi abbiamo, e non lo devo dire a voi, una fama indiscussa nel mondo grazie alle nostre aziende, però nelle nuove economie emergenti non bastano solo le relazioni tra imprese o lo straordinario lavoro che fanno le associazioni di impresa, serve il rapporto tra governi e questo cercheremo di potenziarlo sempre di più. In un quadro europeo in cui sicuramente dopo il 26 maggio si cambieranno gli equilibri. Il nostro lavoro come Italia deve essere quello di presidiare il settore impresa, proteggere quella italiana e cercare di scrivere un nuovo bilancio europeo in cui ci siano più risorse su questi settori. C'è una teoria europea per cui il bilancio europeo ha meno soldi perché l'Inghilterra se ne sta andando e ce ne dobbiamo fare una ragione. Io credo che il bilancio europeo non si debba nutrire solo dei soldi che i singoli paesi danno all'Unione Europea, ma anche di entrate dirette e se nell'Unione Europea ci sono tante multinazionali che stanno arrivando a mettere tende nei paradisi fiscali, è bene anche aumentare la tassazione di quei soggetti che fanno concorrenza sleale ai nostri commercianti, ai nostri imprenditori nell'economia italiana e poter quindi accedere a nuove risorse per destinarle agli obiettivi che ci vogliamo dare nella nuova programmazione che parte dal 2020, una programmazione economica molto importante da presidiare e da portare avanti. So che ci sono tante cose da fare soprattutto sul settore dell'impresa, ancora tante e da qui alla nuova legge di bilancio l'impresa sarà al centro perché sicuramente c'è stata una prima fase di questo governo in cui abbiamo affrontato più provvedimenti sociali, ma adesso è il momento di dedicarci al ceto medio, a coloro che lavorano ogni giorno, tirano avanti la carretta, pagano le tasse per tutti quanti e hanno difficoltà comunque ad affrontare i problemi di ogni giorno e l'obiettivo è farle restare, lasciare aperte le imprese, farle andare più forte e dialogare con loro e il dialogo sarà la base di tutto quello che faremo da qui a dicembre quando si approverà la nuova legge di bilancio con provvedimenti intermedi che se serviranno si faranno. Grazie a tutti, vi auguro buon lavoro e vi chiedo di ascoltare le persone qui presenti perché sono quelli che hanno lavorato in questi mesi a tante delle cose fatte che ho detto stamattina. Grazie, grazie mille. Bene, allora proseguiamo con la seconda parte del nostro incontro.